le signore sono liberi siiii ma c'è stato uno spostamento si si siamo liberi tutti i quali dunque a che ora? dopo lo spettaccio prima dopo non è in norma vengono pure le signore si tutta la compagnia oh viene la cosa più complicata dunque dove ci vengono? è finita la rappresentazione che vengo a prendere sul palcoscenico voi poi vi dimenticate gli amici vi rapiscano ieri sera vi abbiamo visto che siamo sciame di belle ragazze se permettete adesso lo organizzo io mi permette? no io stavo parlando con una è parlato che io non sei passato si io permette mi dico posso? mandati per me dopo la rappresentazione tu ti metti fuori alla porta del palcoscenico e la stradina secondaria quindi se lui passa di là tu qui l'ho vista ma io l'ho vista era una zocco la dalle La lì e la lì. Questo è il rumore che hai fatto e non lo vare. Si. Ma non lo vanno a stare. 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 Allora. Arrivate là un momento. Perché sei da quest'ombra? Come è brutto che sembra. In questa strada non si vede nessuno. Il piccolo è lo scuro. Si vede solo di lontano. Un'ombre. Un'ombre che corre l'eccitazione. Dice che questa piccola. In questo numero dice che questa piccola... Ma è una piccola. Si. Si. Non lo vanno a dire. Ma è tutto. Non lo vanno a dire. Non lo vanno a dire. Non lo vanno a dire che è questo. Non è stato un sogno. Ma lui è incaricato il mio vincenzino nella mia comandalla. Non c'è chiunque. Non lo vanno a dire qua. E ha furato tutto. E glielo ha detto. Forse per questo eri pazzo che aveva fatto piogra. Ma qui di prima ragioneva bene, non dava segni di fazzia. Franco, su una persona non è meglio di mezzo. Ho capito, ho capito tutto, ho capito. Signore, signore, mi hanno rubato un progetto di una mia invenzione. Aiuto, 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 aiuto. Voi riposateli un po'. Oh, grazie. Il signor Alberto si gianderà, sì che si gianderà. Adesso si arriverà il delegato con due guardie per condurlo il manicomio. Perché voglio che tieni in tutto il manicomio, il manicomio, il manicomio. Ciao, signore.